Ciao a tutti, sono Giovanna, una studentessa in archeologia e laureanda. Oggi ho assistito a uno degli incontri con Luca Vete e in realtà non avrei mai immaginato questa determinazione e questo coraggio. In realtà da questo incontro mi aspettavo una cosa molto più semplice, invece mi ha lasciato un messaggio molto significativo. Da lui credo di aver imparato il fatto che non conta se vali 10 o vali 100, ma l'importante è che non ti arrendi mai. E' una cosa importantissima e non ci ferma nessuno.